Musica Cari carissimi telespettatori bentornati al nostro appuntamento settimanale ormai possiamo dirlo il nostro appuntamento settimanale con la sindaco di Mantova Nicola Sodano quindi via Roma 39 sede della comune di Mantova allora subito un saluto e un bentornato al primo cittadino un saluto a lei e a tutti i telespettatori allora signor sindaco oggi questa sera parliamo di un progetto importante parliamo del recupero del palazzo del Podestà perché ieri la giunta ha deciso di andare avanti con questo progetto allora prima di tutto perché avete deciso siccome c'erano delle opinioni diverse almeno fino a qualche mese fa se andare avanti se invece magari pensare solo ad un recupero per la messa in sicurezza però il resto magari rimanere un attimo in stand by perché invece avete deciso di andare avanti con il recupero totale di questo palazzo bellissimo nel centro storico di Mantova? Beh i motivi sono tanti fra questi motivi certamente non il più importante e determinante però vi è anche diciamo così la quantità di denaro che già si è speso per questo progetto allora innanzitutto dobbiamo ricordare ai telespettatori che è un'idea che nasce addirittura nell'ambito dell'esperienza di governo di Gianfranco Burkellaro Sì siamo intorno al 2002-2003 Esatto che aveva proposto per il recupero un project financing chi l'ha sostituito cioè il sindaco che mi ha preceduto Fiorenza Brioni ha annullato questo procedimento e già questo annullamento ha comportato dei costi che io ho dovuto sostenere nell'ambito del mio mandato per rimborsare i che aveva partecipato Le ditte coghi e scattolini che aveva partecipato Siamo nell'ordine dei 400-500 mila euro di rimborso per aver annullato quella gara però Poi ci troviamo con dei lavori preliminari che sono stati fatti per predisporre la gara comprensivo delle analisi fatte sul fabbricato le indagini geologiche, le indagini diagnostiche, i rilievi fino ai lavori e al costo della commissione che è stata nominata dalla giunta che mi ha preceduto Dal sindaco Brioni Ecco per complessivi circa 450 mila euro 450 mila euro? 450 mila euro Mi perdoni io non sono un addetta ai lavori Sono costi sostenuti ma sono costi già sostenuti e deliberati dalla precedente amministrazione per ciò che riguardano i lavori preparatori e gli unici soldi che noi dobbiamo ancora erogare sono il pagamento del lavoro dei commissari che ammonta complessivamente a 105 mila euro che anche questi sono stati costi individuati sia i commissari che sono stati individuati dalla precedente amministrazione sia l'onorario dei commissari è stato deliberato da chi mi ha preceduto Mi scusi signor sindaco, 105 mila euro, cioè è un'enormità È una cifra importante perché sono stati individuati dalla precedente amministrazione Quanto prendevano questi commissari? Quanto prendono o prendevano, non so se sono ancora al lavoro, questi commissari? È un costo, diciamo così, che... Ogni volta che arrivano a Mantua È un costo, è un onorario, è un gettone di presenza per ogni lavoro di commissione di circa 1.500 euro oltre alle spese vive sostenute È una commissione composta... 1.500 euro più quindi vitto alloggio a Mantua per questi commissari? Esatto, questa è una commissione che è stata... Posso dire ai telespettatori che non ho parole, visto che siamo in un'epoca di ristrettezze Cioè ogni volta che uno di questi commissari viene a Mantua prende lo stipendio di una persona normale? Sì, è soffitto, sì Bene, lasciamo ai telespettatori giudicare una cosa di questo genere con... Tengo a precisare, come a scanso di equivoci, che questo meccanismo, diciamo così noi la commissione l'abbiamo trovata già formata... Assolutamente sì, erano i commissari che erano stati individuati... Naturalmente gli incarichi che erano stati dati erano stati dati secondo questi parametri che qui abbiamo accennato Quindi complessivamente il lavoro della commissione costa poco più di 100.000 euro a cui si aggiungono quei costi che vi ho detto prima di preparazione del progetto che sono stati pagati dall'amministrazione, fatti dall'amministrazione che ci ha preceduto che erano propedeutici alla gara per altri 350.000 euro, totale 450.000 euro Se gli aggiungiamo i costi sostenuti per l'annullamento della gara del sindaco precedente siamo già sotto un milione di euro e non abbiamo toccato ancora un mattone Proprio per questo motivo ci tengo a precisare che nell'ambito della riflessione le sintetizzo questi tempi Nell'agosto di quest'anno il nostro ufficio legale ha verificato come da ultime sentenze della Corte dei Conti una recentissima del marzo di quest'anno che in caso di annullamento di questa procedura di gara i quattro concorrenti erano legittimati a chiedere un rimborso per le spese sostenute, per tutta una serie di meccanismi Per il lavoro svolto fino a questo momento La cifra sembrerà esagerata ma questo ci scrive, ci mette nero su bianco il nostro ufficio legale, un rimborso danni diciamo così per parlare un linguaggio semplice che si attesta intorno ai 750 mila euro per ogni ditta Ogni ditta avrebbe dovuto avere 750 mila euro Quindi il milione che abbiamo detto prima più i 3 milioni a cui andavamo incontro in caso di annullamento avremmo corso il rischio di pagare 4 milioni di euro senza toccare nulla nel Palazzo del Podestà E quindi come dire... Avete deciso? Andiamo avanti con questo progetto di riqualificazione Esatto, il nostro andare avanti è anche però sostenuto dalle motivazioni fondamentali e sono anche da, come dire, da ricondurre al fatto che questo è un intervento paradigmatico molto importante per una città dell'UNESCO diventerà un intervento più importante sicuramente in Italia e importantissimo anche nell'ambito del panorama europeo perché oggi in centro storico non vi sono altri interventi in corso così significativi Ecco, a proposito, lei ha citato Mantova come città dell'UNESCO So, signor Sindaco, che c'è un progetto di candidare Mantova per qualcosa di importante Certo, nel 2012 uscirà il bando nazionale a cui abbiamo intenzione di partecipare come città di Mantova anche su questo in giunta abbiamo deciso di intraprendere questa avventura perché nel 2019 una città italiana sarà capitale europea della cultura quindi noi parteciperemo a questo bando abbiamo alcune chance e cioè il fatto di essere una città con un'attività culturale intensa o intensissima che non trova riscontro in altre piccole città paragonabili alla nostra abbiamo il fatto che siamo città dell'UNESCO e abbiamo anche il fatto che un intervento come questo sul Palazzo del Podestà è una condizione che potrebbe darci un ulteriore punteggio perché nell'ambito delle candidature come città europea della cultura le città dovranno impegnarsi anche per un intervento che riguarda il patrimonio diciamo così emblematico e importante più di Palazzo del Podestà non c'è nulla ecco signor Sindaco mi viene in mente che un intervento di questo genere può avere anche dei riflessi positivi per quella che la nostra economia in particolare il settore edilizio ma guardi i riflessi positivi guardi è chiaro ed evidente che l'opinione pubblica l'opinione pubblica mantovana e anche diciamo così la riflessione accorata che abbiamo fatto come maggioranza su questo tipo di intervento ci porta a dire che in un momento del genere dove c'è anche tanta gente che ha bisogno in un momento di grande difficoltà probabilmente non saremmo partiti oggi con un'avventura di questo genere ma oggi fortunatamente abbiamo questa opportunità vogliamo coglierla riteniamo che questa opportunità sarà un'iniezione di vitalità per l'economia mantovana e mi riferisco sia al fatto che operatori e lavoratori lavoreranno su questa importante opera e sia al fatto che questo intervento sarà studiato e focalizzerà l'attenzione del settore degli architetti, del mondo delle costruzioni, del mondo del restauro vi sarà all'interno del cantiere anche un'area appositamente predisposta per visitare il cantiere per monitorare l'andamento dei lavori quindi immaginiamo un ritorno, un'avvenuta fisica anche di studenti universitari da parte di tutta Italia e anche un'attenzione mediatica di tutto il mondo della cultura e del restauro nazionale quindi insomma Mantua promuoverà se stessa con questo intervento Ecco, architetto Sodano, è stato detto che più o meno i lavori dureranno non più di 30 mesi proprio perché un cantiere in pieno centro storico non può durare troppo a lungo più o meno si ha un'idea della tempistica quindi dei lavori Ma guardi, adesso la gente non deve pensare che con l'apertura delle buste domani mattina Che avverrà tra 7-10 giorni più o meno Sì, adesso noi daremo disposizione al nostro dirigente dei lavori pubblici che è anche il presidente della commissione giudicatrice Per volere del bando che è stato predisposto a suo tempo Verranno convocati chi deve essere convocato per l'apertura delle buste L'apertura delle buste verrà in maniera pubblica Nel mese di novembre contiamo di aprire le buste Chi vince dovrà poi redigere il progetto esecutivo perché oggi la partecipazione alla gara presupponeva la redazione del progetto definitivo Bisognerà invece redigere il progetto esecutivo Bisognerà che alla fine ne esca una progettazione fra quella definitiva e fra quella esecutiva Adesso parlo un linguaggio molto semplice Condiviso e approvato dalla sovrintendenza Ecco, perché c'è sempre poi il passaggio Quindi c'è il passaggio Potrebbe essere che la sovrintendenza dica anche Questo progetto non va bene La sovrintendenza è l'ente che per natura istituzionale Deve tutelare i beni vincolati E quindi è giusto che la sovrintendenza eserciti quel controllo Che solo lei può esercitare Quindi magari o approverà in toto il progetto presentato Oppure chiederà delle modifiche Così come delle modifiche le chiederemo anche noi Ho capito Signor Sindaco, senta, una domanda è d'obbligo Mi pare che questo sia un progetto La prima tranche di circa 14 milioni di euro Poi ci sarà una seconda tranche successiva Mi pare di 13 Una cosa di questo genere Siamo più o meno sui 27 milioni di euro Ecco, il project financing Che vedeva come proponenti Coghi e scattolini Praticamente con 12 milioni e 8 Sarebbe costato di meno Vuole dire questo Esatto, 13 milioni in tutto, scarsi Si ristrutturava, si restaurava Mi perdoni di fronte ad un architetto Palazzo del Podestà Com'è possibile che i costi possano essere lievitati in questo modo Nel giro di pochi anni? Perché non credo che la ditta Coghi avesse fatto un progetto Che poi non poteva essere sostenuto Cioè da 13 milioni a 27 c'è una bella differenza Allora guardi, io le parlo adesso più che come sindaco Anche con l'esperienza, diciamo così Con la mia esperienza professionale di architetto Ci sono due mondi che almeno finora Finora per come andavano le cose in Italia, in questo paese Due mondi che parlano due lingue diverse Ed è il mondo pubblico e il mondo privato Questo dobbiamo dirlo con... Il mondo pubblico insomma è portato un po' per vocazione Non lo so, per spendere un po' di più Il mondo privato a spendere un po' di meno Alla faccia deve spendere un po' di più insomma Questo è quello che è successo normalmente finora Quindi anche facendo... Ci sono 14 milioni di euro in più Facendo un intervento come era stato pensato Diciamo così nell'era Burchellaro Se posso usare questo termine C'era un tipo di impostazione pubblico-privato Che quindi permetteva di ottenere determinati costi Col sistema pubblico si parla un linguaggio diverso Come però tutti sanno Non è che io sto dicendo delle cose nuove E c'è da dire questo Che oggi con l'intervento pubblico Vi è un capitolato, diciamo così Che è a base d'asta E poi vi è la possibilità del cosiddetto ribasso d'asta Quindi anche nell'apertura... Che però senz'altro non sarà di questa entità Ovviamente Nell'apertura delle buste Noi saremo molto... Io sono molto curioso ecco Di vedere anche le offerte economiche come saranno Per dare dei numeri precisi Però bisogna dire che l'importo complessivo dell'opera È di 24 milioni di euro Di cui però per lavori sono 17 milioni e 700 mila Tanto per essere precisi Quindi questi 24 diventano 14 milioni di euro circa Per il cosiddetto primo lotto E gli ulteriori 10 nel secondo lotto Nel primo lotto Questi 14 milioni di euro Per lavori, diciamo così a base d'asta Sono 10 milioni e 150 mila euro Gli altri 3 milioni sono somme a disposizione dell'amministrazione Però qui entriamo in un ambito tecnico Che non vorrei toccare Però insomma è comunque sempre molto di più di quello che aveva proposto Coghi È molto di più Perché insomma è denaro pubblico È molto di più E poi le ricordo L'annullamento di questa cosa qui Ha comportato 500 mila euro Ecco che è tanto per capire È più o meno il costo di Piazza Martiri Che abbiamo appena sistemato Con tanta logica Quindi a dire ai nostri telespettatori Che giudichino loro Insomma quello che è successo Signor Sindaco Lei proprio qui a Via Roma 39 Qualche settimana fa Ha detto che Il recupero di Palazzo del Podestà Non si tradurrà però Con lo spostamento Della sede istituzionale Sì guarda Ci tengo a dirlo perché Ecco Mi chiedo a questo punto Ieri insomma abbiamo sentito qualche idea Ma qualche ufficio turistico Uno spazio espositivo Però insomma non si fa un progetto di questo genere Per qualche ufficio turistico Insomma deve essere qualcosa di importante Dentro al Palazzo del Podestà Una volta che sarà recuperato Allora già il progetto I quattro progetti definitivi Che partecipano alla gara Si muovono Sono redatti Seguendo delle indicazioni Che sono state date Dall'amministrazione nel bando Quindi il progetto che viene approvato E che vince È un progetto che ha già Delle destinazioni ben definite In ogni suo piano In ogni sua stanza Quindi c'è Quindi avete già un'idea Di cosa potrà esserci No C'è il bando Il bando che prevede Il bando prevede fondamentalmente Una duplice funzione No? Una funzione destinata A spazi istituzionali E una funzione destinata Ad attività museali O comunque a servizio della città Sotto questo tema Vi sarà poi E il progetto è pensato Anche per una fruibilità Di questo monumento Per poter guardare La bellezza di questo monumento Quindi sarà un'esperienza unica Cioè i mantovani Che oggi Posseggono Palazzo della Ragione Il teatro Bibiene Il palazzo Ducale Il palazzo T Ritorneranno in possesso Del palazzo del Podestà Quindi questa è un'operazione culturale Quindi diciamo che ci saranno Diverse destinazioni d'uso Esatto Noi Noi abbiamo intenzione Di Contrariamente al bando Di lasciare L'ufficio del sindaco In Via Roma E tutti gli uffici istituzionali Quindi Quelli del sindaco Sì compresa anche L'aula consigliare Perché nell'aula consigliare Di Via Roma Vi è la memoria storica Della democrazia Di questa città Nel mio ufficio Io mi siedo volentieri Lei sa che mi siedo volentieri Perché dietro di me C'è questa targa Che ricorda Il passaggio di Garibaldi Quindi insomma È impensabile Pensare a un trasferimento Ma poi È impensabile Spiegare alla città Che si faccia Questa cosa Per dare il nuovo ufficio Al sindaco Insomma In un periodo di crisi Come questo Però insomma Bisogna fare un progetto Importante Quindi Vorremmo togliere Queste funzioni Che adesso sono in progetto Dovremmo darne delle altre E allora io dico Adesso guardiamo Com'è il progetto Ma perché non coinvolgere Anche la città In un dibattito Per avere suggerimenti Per avere stimoli Sull'utilizzo È un'operazione Questa è il Palazzo del Podestà Che è partita nel 2002 Come dice lei 2002-2003 Adesso non mi ricordo Di preciso Però Ha avuto le vicissitudini Che ha avuto Con l'altro sindaco Con questo sindaco Parte La conclusione Cioè Lanciate un concorso di idee Proprio No no Perché C'è un concorso di idee Per i cittadini Nel senso che Individueremo L'idea è di individuare Un modo Per coinvolgere la città In questa operazione Allora facciamo una cosa Limitatamente A quegli spazi Diciamo così Che erano destinati Per l'ufficio del sindaco E per tutto Il suo staff E che invece Non Riteniamo L'ufficio del sindaco Può rimanere in via Roma Allora io capisco Che i tempi Sono molto prematuri Però direi già Ai nostri cittadini Voi spedite le vostre idee In via Roma 39 Alla mail Dove ci spedete Spedite sempre Le sollecitazioni Le domande Per il sindaco Poi magari Tra qualche mese Quando saremo anche Più in là Con l'iter Sarà già stato scelto Il progetto Potremo anche capire E vedere Quali sono le proposte Proprio dei cittadini Che poi ovviamente Il comune farà sapere Quali saranno poi Le altre strade Noi ragioneremo In modo da Insomma Indirizzare Indirizzare bene La richiesta Di informazioni Di cui abbiamo bisogno Ecco Ho capito Le chiedo L'ultimissima domanda Perché il nostro tempo È scaduto È una domanda Da architetto Più che Da sindaco Ecco Beh Questa mi piace di più Lei È soddisfatto Di far partire Questo progetto E soprattutto Lei da architetto Cosa vede In questo palazzo Ma guardi Io le faccio una premessa Che come sindaco Le posso assicurare Che come sindaco Come architetto Ma come sindaco Soprattutto Non dico Che non abbiamo dormito La notte Ma insomma Abbiamo pensato molto Sull'opportunità Come vede Dai numeri Dalle passaggi Che gli ho detto Abbiamo cercato Di valutare Veramente tutto E compito del sindaco E non buttar via I soldi E l'ipotesi Di buttar via 4 milioni di euro Era un'ipotesi Che non Che ha orientato In maniera decisa E determinante E anche la scelta Io penso che dal punto Di vista architettonico Sia un'operazione Importante Un'operazione Che rimarrà Nella storia Di questa città Sarei La più grossa Soddisfazione Che questo primo lotto Di lavori Potesse essere inaugurato Sotto la mia amministrazione Sarebbe una gioia Immensa per me Ma una gioia Anche per i mantovani Perché si completerebbe Quel circuito Che vede Palazzo della Ragione La Torre dell'Orologio La Rotonda di San Lorenzo Il Palazzo del Podestà In Piazza Erbe Diventerebbe veramente Un salotto Un salotto Un salotto Della città Già è una città Dove arriva gente Da tutto il mondo Da tutta Europa Da tutta Italia In questo modo Diventerebbe Il centro Della città di Mantua Che già abbiamo ampliato Con Piazza Martiri E che sistemeremo Ancora di più Con Piazza Sordello Con l'eliminazione Del Cubo E la sistemazione E una nuova visitabilità Del sito Del sito archeologico Diventerebbe veramente Una città Da venire apposta Solo per vedere Questi posti Che ho citato Allora signor sindaco Lei è riuscito Furbescamente A non dirci Qual è la sua idea Che cosa metterebbe Dentro a Palazzo Della Podestà Come architetto Ma del resto Ovviamente qui parla Da sindaco E quindi molto probabilmente È giusto così Il nostro tempo però Davvero è andato Al di là In qualsiasi modo Di quello che abbiamo A disposizione Non mi rimane Che a ringraziarla Ovviamente Buon lavoro Per questo progetto Che davvero è molto Molto importante Per la nostra città Grazie ancora Della sua partecipazione Grazie a voi Cari telespettatori Per averci seguito Anche questa sera Mi raccomando Mi raccomando Le vostre mail E quindi come al solito Lascio i saluti finali Al nostro sindaco Un abbraccio a tutti Arrivederci Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti